Proseguono a terra i lavori per lo smantellamento definitivo della copertura metallica della Domus Romana, un intervento che rappresenta la prima fase del progetto da 2,8 milioni di euro che coinvolge la soprintendenza regionale e l'amministrazione cittadina, destinato a riqualificare l'area archeologica e il giardino della Madonna delle Grazie. L'obiettivo principale è quello di aprire lo spazio tra Porta Reale e il Santuario della Madonna delle Grazie, integrando con il contesto urbano l'area archeologica, finora rimasta confinata dietro la barriera metallica, formata dalla recinzione e dalla massiccia tettoia. È un intervento che va a riqualificare in maniera importante quest'area per renderla più fruibile ai cittadini, più vicina ai cittadini. Quindi prevede una sistemazione di bellezza importante e la renderà più fruibile. Ovviamente noi come amministrazione dobbiamo muoverci per procedere all'abbattimento del manufatto che è proprio di fronte all'irex benzinaio e poi di cercare di trovare una soluzione per riqualizzare diciamo quel manufatto dove al momento c'è un autolavaggio. Quello non è di nostra proprietà quindi dobbiamo trovare una soluzione per poter consentire al signora titolare dell'autolavaggio poi di poter proseguire la sua attività. E' una... diciamo dobbiamo sbrigarci perché siamo in ritardo su questo tipo di intervento che va veramente perché con l'abbattimento di quei manufatti quest'area diventerà sicuramente più attraente, più bella e quindi andremo a fare un ottimo lavoro insomma in concertazione con la soprintendenza che ci ha sollecitato tra l'altro proprio questi giorni di procedere alla rimozione di quei manufatti. Il progetto messo a punto dalla soprintendenza che conta su un contributo ministeriale servirà a rendere più fruibile il parco archeologico al posto della recensione della copertura infatti sarà realizzata una struttura molto più leggera che lascerà spazi aperti per i pedoni tra i vari elementi di epoca romana in modo da renderli più accessibili ai visitatori. Quello che dobbiamo mirare è a riqualificare, a valorizzare il nostro santuario se ne siamo dimenticati perché fare un parcheggio davanti a un santuario è forviante e dobbiamo quindi andare in questa direzione di rivedere il tutto ma soprattutto possiamo andare a valorizzare in maniera importante il santuario e le grazie che è un'opera importante, un accesso importante, non dimentichiamolo, è un santuario.